amore che ci mangiamo oggi formaggio fritto questo è formaggio fritto con la marmellata questa è una specialità canaria poi dopo ci abbiamo la paella la paella però ragazzi stiamo ancora lego sono tornato molti sanno che sono tornato all'italia vi faccio vedere dove stiamo mangiando questo qui stiamo sul lungomare poche parole io e la mia figliola ci mangiamo una cosa si che se aspetto a lui che finisce il video quasi fredda no tranquillamente e niente siamo questo è un ristorante sul mare come si chiama il ristorante questo qua non mi ricordo io oddio vabbè stanno tutti questa è una serie di ristoranti qua stanno in lungomare ci stanno uno due tre quattro cinque sei sette otto in trecentomare ci stanno otto ristoranti più o meno manco poi dopo ci stanno altri ristoranti fino a giù in fondo e poi qui su in cima cioè tutta sta parte lungomare ci andranno a meno un 25 30 ristoranti perciò quando vedo ancora lego ci avete l'imbarazzo della scelta di venire al ristorante di mangiare quello che vuole uno vuole mangiare quello che vuole tutto quanto musica canaria spagnolo vabbè l'america latina benni a una morte ero bello come stai caro tutto bene il cane come va il cane tutto bene il cane me lo ricordo è sempre la stessa razza no sempre rottweiler vivi con il rottweiler però i rottweiler sai che c'è campano meno degli altri cani io ho visto che quando sono dieci anni già è il problema no io quell'altro mi sono vissuto da dodici anni la prima l'una che ha appena morta 15 anni ma dunque perché è stato male perché prima di stare male è stato male questo anno ma prima di stare male che ho avuto questa confezione di giornale ancora si è stata la 15 giornata bella giornata è fa sera bella passeggiatina lungomare tranquillo è bello è femmine o matio femmine femmine per la cucciolata no per la cucciolata giusto no 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 per la cucciolata giusto no 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 per la cucciolata giusto ah ok ah ah vabbè più pendenti perfetto ok ciao benny ci vediamo alla prossima si si come no vietta a mangiare la pizza da me quando vuoi non ne tanto ci ho pensato intanto ma basta se non ce so mi fai chiamare io vengo ok magari se la mangiamo insieme ok va bene ciao benny arrivederci allora hai mangiato? guardate che non mangio niente ragazzi e comunque quando venite qui a coraleco qui è pieno di ristoranti fate come volete siete ospiti ok? ospiti ospiti ragazzi ci vediamo ciao buona ah stasera sta nei partite stasera ci divertiamo eh stasera ci divertiamo ci stanno prima i pagliacci e poi ci sta la cempio vediamo che cosa faranno i pagliacci ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao